Bentornati ragazzi, sono Giovanni e oggi sono qui per parlare insieme a voi di quella che sarà la partita di domani e di quella che è la situazione critica della Rosa della Lazio che è ridotta ai minimi termini, siamo ridotti all'osso, in questo momento si contano circa 8-9 assenze probabili, tra cui assenze per Covid molto probabilmente e parlo di ACPAC Pro, Andre Anderson, Basic e Radu, poi c'è questa politica che la società adotta di non divulgare i tesserati positivi, questo succede in realtà da un po' di tempo, è comprensibile considerando quello che è successo un anno e mezzo fa con Immobile Leiva e Stracoscia, quando c'è fu la guerra mediatica tra la Gazzetta dello Sport e la Lazio, è comprensibile che la Lazio abbia deciso di non divulgare più i tesserati positivi, anche perché la Lazio non è obbligata a farlo, nessun club è obbligato a farlo, ci sono club che lo fanno, ci sono club che invece comunicano soltanto la presenza di alcuni tesserati positivi e ci sono club come la Lazio che invece decidono proprio di non divulgare niente, quindi queste sono scelte che possono essere condivise o meno e io sono d'accordo, io sono d'accordissimo sinceramente, soprattutto dopo quello che è successo un anno e mezzo fa, però a parte tutto, ACPA, Andre Anderson, Basic e Radu, assenti per positività, con molta probabilità, Cataldi squalificato, Zaccagni, Pedro e Acerbi infortunati, questa è la situazione, 8 assenze, 4 delle quali di giocatori titolari, ok? E quindi la Lazio contro l'Atalanta molto probabilmente si presenterà con questo 11 titolare, Stracoscia, Marusic, Luis Felipe, Patrick, Yusai, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Raul Moro, questa sarà con molta probabilità la formazione titolare e, premetto una cosa, premetto una cosa, in tempi non sospetti, con 8 assenze, tra cui 4 titolari, la formazione titolare della Lazio sarebbe stata molto più scarsa di questa, quindi vuol dire che ci sono stati dei piccoli passi in avanti, almeno a livello di Rosa, però non è questo il punto, il punto è che alla luce di questa situazione che si è andata a creare, no? Come è possibile che la Lazio non stia facendo assolutamente nulla sul mercato? E non stia facendo assolutamente nulla per risolvere l'indice di liquidità e per sbloccare il mercato di entrata? Cioè come è possibile che alla luce di una situazione critica, una situazione grave come questa, a livello di quantità di calciatori, qualità è un conto, qui stiamo parlando di quantità dei calciatori? Come è possibile che la Lazio sia completamente immobile sul mercato? Come è possibile? Cioè come è possibile che Tare non stia facendo assolutamente nulla per piazzare determinati calciatori? E come è possibile che io debba ancora leggere dichiarazione di Lotito che dice no, io immetto capitale a condizione che ci siano delle garanzie su future cessioni? Ma com'è garanzie su future cessioni, scusa. Cioè tu veramente, tu veramente stai, mi stai dicendo, ci stai dicendo che c'è l'eventualità che la Lazio chiuda questo gennaio senza acquisti? Tu è, è questo che mi stai dicendo? Che poi, che ci siano delle, che ci siano dei regolamenti in serie A che, eh, che non hanno una logica, che non, che non hanno senso? Ok, è un conto perché la regola dell'indice di liquidità ci sta, ok? ci sta, ma non ha senso se poi, come dice Sarri, come ha detto anche Sarri qualche giorno fa, non ha senso se poi club che sono in negativo di 400 milioni possono continuare a spendere, espandere. Cioè, l'indice di liquidità in sé ha senso, ma non ha senso se club indebitati fino al collo possono continuare a fare quello che vogliono. E qui Sarri ha completamente ragione. Anche la regola sugli extracomunitari, sui giocatori extracomunitari è una regola che non ha senso, non ha senso soprattutto per come è strutturata. Io mi sono, mi sono incuriosito stamattina, sono andato a leggere perché non capivo come fosse possibile che la Lazio non potesse acquistare ulteriori extracomunitari se dovesse essere tesserato Kamenovic. Sono andato a vedere, la Lazio ha tre extracomunitari in rosa. Marusic, Murici e Felipe Anderson. Con il quarto slot che, che poteva essere quello di Kostic, che può essere quello di Kamenovic, con il quarto slot è disponibile. Stavo cercando di capire com'è possibile che la Lazio non potesse, non potesse prendere altre extracomunitari quando il Bologna ce n'ha dieci. Dieci. Il Bologna ha dieci extracomunitari in rosa. E quindi io stavo cercando di capire, stavo cercando di capire quale fosse il regolamento, quale fosse la regola, no? A quanto pare un qualsiasi club di Serie A non può prendere più di due extracomunitari all'anno. Cioè, quindi, una squadra che ne ha quattordici può prenderne soltanto due, così come una squadra che ne ha due. Non ha senso. Quindi ci sono delle regole che non hanno senso, ok? In Serie A. Però, però, non è possibile che una squadra come la Lazio, un club come la Lazio, che lotta, che deve lottare per le prime sei, sette posizioni in classifica e quindi per posizioni europee, per posizioni europee, non è possibile che una squadra come la Lazio debba cedere una riserva per fare mercato. Una riserva che sia Murici, o che sia Lazzari, o che sia Vavro, non è possibile. Anche perché poi anche altre squadre hanno problemi con l'indice di liquidità, sono bloccati dall'indice di liquidità, come Lempoli, come il Sassuolo, che infatti ha ceduto Boga, ha ceduto Boga per una ventina di milioni, come molte altre squadre. Ma parliamo di squadre che non lottano per le prime posizioni. Lempoli, il Sassuolo, non so, mi sa che ci fosse anche la Sampdoria, non sono squadre di vertice. Ci siamo soltanto noi tra le squadre di vertice bloccati dall'indice di liquidità. Ed è incredibile che non sia stato fatto ancora nulla per risolverlo. È incredibile che la Lazio si sia accorta del problema soltanto a inizio mese. Ma scusa, a dicembre? A novembre? Ad ottobre? Mi state dicendo che questa cosa non si sapeva? Ma certo che si sapeva. Lo sapevamo tutti, lo sapevamo. Sembra che alcuni giocatori possano ancora recuperare, perché Basi e Andre Anderson questa mattina si vengono presentati in paideia e Zaccagni, anche lui, può essere convocato, ci sono le possibilità che venga convocato, però rimane un problema di principio, questo qui dell'immobilismo. Dite qualcosa, mi lasciate commenti, se non like, se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se è per caso ancora fatto. Noi ci vediamo successivamente. Ciao ragazzi, forse a Lazio.